Quando parliamo di narcisismo, cioè di disturbo narcisistico di personalità, ci riferiamo proprio a un insieme di comportamenti e di schemi di pensiero che sono fissi e che se noi iniziamo e riusciamo a conoscerli potremo avere più potere, quindi conoscere e anche riconoscere, potremo avere più potere per poterci salvare o comunque difendere da questo genere di rapporti che creano veramente molta sofferenza. La domanda che mi pongo in questo video è come fa il narcisista a sfruttare le debolezze degli altri, delle persone che incontra? Se ad esempio io inizio una relazione con una persona che ha questo disturbo, cosa potrebbe succedere? E' chiaro che dovremo iniziare a pensare a come si sviluppano le fasi nel rapporto narcisistico e sappiamo benissimo, ci sono altri video nel canale che ne parlano o nel web, che la prima fase è denominata love bombing, cioè la fase del bombardamento d'amore. Ed è così denominata proprio per la modalità con cui il narcisista o lo narcisista si approcciano nelle relazioni. E questa è una fase però che è fondamentale per il narcisista perché gli permette di ottenere quelle informazioni importantissime che serviranno per gestire la relazione nel periodo successivo. Ovvero quello che si sperimenta generalmente è una forte premura da parte del narcisista, una tensione, un essere sempre coinvolto nella relazione, molto incuriosito dalla nostra persona. E questo in una relazione diciamoci normale sarebbe un buon segnale, nel senso che il partner vuol dire che è molto interessato a stabilire un buon rapporto con la persona che è di fronte e quindi cerca di capire al meglio e sintonizzarsi al meglio o sentire se c'è sintonia in modo tale da essere il più possibile capace di amare. Con una persona con un disturbo narcisistico invece questo non è proprio lo stesso. Il narcisista fa tante domande, è permuroso e cerca di capire nel colloquio e nel dialogo quali sono le tue debolezze, le tue fragilità, ma in realtà lo fa per avere più possibili armi nei confronti tuoi, cioè avere più maniglie alle quali appendersi nel momento in cui tu cercherai di divincolarti. E allora quello che succede durante una cena è il narcisista, il narcisista inizia a dirti ma cos'è la cosa di cui hai più paura, ma hai sofferto, ma cosa ti è successo, ma perché in quella relazione, ma lui cosa ti ha fatto, lei cosa ti ha fatto? E noi iniziamo ad aprirci e a raccontare appunto che abbiamo sofferto molto perché quella persona si è rivelata falsa o perché ci ha tradito o perché aveva poca sensibilità rispetto ai nostri temi o non ci ha appoggiato nel lavoro o ci sentivamo alla distanza. Nel momento in cui noi riferiamo queste nostre sofferenze, queste nostre fragilità diventano tutte informazioni importantissime per il narcisista. Quando lui riceverà tutte queste informazioni le metterà in saccoccia e non le dimenticherà, le terà ben presenti. All'inizio sembrerà che sia un interesse genuino, un interesse per farci stare meglio, ma queste stesse cose che ci fanno sentire bene, capite e in quel momento speciali nella relazione potrebbero invece essere utilizzate e saranno utilizzate contro la persona che le ha espresse. E un primo segnale sarà dato dalle loro continue promesse, ad esempio nel momento in cui tu dirai ma guarda la persona che avevo accanto mi ha tradito con un'altra collega e lui o lei inizieranno a dirti guarda con me potrai stare al sicuro perché io non ti tradirò mai, non farò mai nulla per poter perdere una donna o un uomo come te. E ti rassicureranno e ogni volta che tu avrai una paura o una fragilità confidandola ti sentirai accolta o accolto perché veramente ti offriranno ciò che sarebbe stato giusto aver ricevuto nelle situazioni precedenti o in quella situazione. Ma nel momento in cui tu cercherai di dire ma guarda adesso io ti ho detto tante cose di me, mi fa piacere averte le dette ma mi piacerebbe anche ascoltarti, potrebbero uscirne velocissimamente dicendoti ma guarda ma non è importante quello che provo io perché è così bello ascoltarti, mi piace così tanto conoscerti che per me è più importante che parli tu. E ti rimandano la palla perché loro difficilmente apriranno a te invece la porta delle loro fragilità, quelle vere. A volte potranno inventarsene qualcuna ma non saranno mai veramente le loro fragilità, quelle le inizierai a cogliere nel tempo. Perché pur professandosi sicuri, pur professandosi persone capaci di, pur dicendo di avere tante qualità, ti renderai conto nel tempo che molte di quelle qualità in realtà non sono proprio del tutto vere, anzi sono proprio il contrario. Che quindi non sono proprio così di successo o se sono di successo non hanno così proprio tante relazioni vere o se hanno delle relazioni appunto sono molto superficiali e badano molto all'aspetto, all'esteriorità e non tanto all'intimità che va in contrasto un po' con il modo con cui approcciano con te. E c'è una parte di te che in quel momento ti viene proprio spontaneamente fuori e ti dice ma perché è così attento e permuroso con te e poi in realtà con le altre persone non si rivela altrettanto? Perché è così interessato a sapere delle tue cose ma tu in fondo di lui o di lei non sai proprio nulla? Perché? Questa domanda perché è importantissima e è meglio non censurarla. Perché in quel momento nella fase del love bombing si è talmente contenti e inebriati di tutta questa felicità, di questo calore che si sente intorno per avere questo rapporto che si cerca di censurarle, far finta che non esistano. Ma sì dai però adesso non ti fa troppe paranoie, sei una persona che pensa troppo e purtroppo a volte anche parlare con persone esterne alla propria relazione, anche amici che però non hanno mai vissuto un rapporto con persone con questo tipo di disturbo potrebbe portarle a dirti ma no ma sei esagerata, ma mi sembra fin troppo bello quello che stai vivendo e ti lamenti pure. E questo potrebbe un attimino indurti anche a soprassedere rispetto alle tue domande e questo potrebbe essere un primo errore ma soprattutto te ne accorgerai nella fase successiva perché tutte queste informazioni che il narcisista, il narcisista hanno raccolto su di te verranno fuori. Ma non verranno fuori nel senso bello con cui hanno approcciato, con cui ti hanno tra virgolette estorto queste informazioni, verranno fuori come dei pugnali che serviranno per ferirti. Nel momento in cui tu chiederai ma perché stasera non ti fermi a dormire da me e invece te ne vai con i tuoi amici a giocare al poker e invece che non mi avevi neanche detto che l'avresti fatto e loro inizieranno a dirti ah ho capito perché ti ha lasciato, perché sei troppo possessiva. E tu in quel momento coglierai la ferocia con cui te lo diranno che è contraria proprio a quello che ti saresti aspettata da una persona che ha saputo ascoltarti che anzi avrebbe dovuto rassicurarti e dirti ma no guarda non ti preoccupare stasera vado a giocare perché è un'occasione ma domani ci sono. Invece no, useranno delle parole proprio per ferirti e nel momento in cui litigherai o metterai in dubbio le sue parole, i suoi comportamenti, la sua coerenza, questa ti verrà ributtata addosso con tutte le tue fragilità usate, tutte come pugnali nei tuoi confronti. Potrebbero arrivarti dei messaggi di una ferocia che non ti saresti mai aspettato, potrebbero dirti davanti a tutti delle cose che tu non hai mai pensato potessero essere capaci di fare. A volte purtroppo potrebbero anche sfociare in atteggiamenti molto violenti nei tuoi confronti, soprattutto nel momento in cui percepiscono che tu hai paura della violenza fisica, soprattutto se percepiscono che hai subito della violenza fisica. Quindi tutto ciò che ti aspettavi è proprio il contrario. Ma questo viene fatto con grande consapevolezza e l'obiettivo è quello di indebolirti perché paradossalmente nel momento in cui ti vengono riversate queste parole, quello che succede dentro di te è di sentirti scioccata. È come se fosse qualcosa che ti coglie completamente inadeguata, è talmente inaspettato, è talmente furioso quello che sta succedendo che tu rimani bloccata o bloccato e non sai come rispondere. Però senti di dover riconquistare la persona che hai di fronte in un meccanismo perverso di dipendenza affettiva. Ma utilizzare le tue più grandi paure, fragilità, ferite contro di te non è gratis. È qualcosa che comunque ti renderà debole, sì, ma potrebbe anche farti sfociare in una sensazione di depressione, a volte proprio di renderti depressa come persona. Toglierti le energie, sentirti completamente svuotato o svuotata. Inizierai a mettere in dubbio anche la stima che hai nei tuoi confronti. Proverai a non riuscire a essere presente nel momento in cui ti dice certe cose, proprio per difenderti. Utilizzerai una sorta di distacco dalla realtà di quello che capita. E tutto questo ti indebolisce, ti rende più malleabile e manovrabile. E allora è importante che tu possa proteggerti da queste situazioni. E la prima cosa da fare per proteggersi è, nel momento in cui ti senti trascinato o trascinata all'interno di questo tipo di situazione, cercare comunque delle persone che stimi, prenderti cura di te, provando a dire a quelle persone quello che provi. E se non ti senti soddisfatto o soddisfatta, cerca di avere un rapporto con una persona che è professionalmente preparata a capire queste situazioni, che possa veramente individuare quali sono i meccanismi manipolatori che ci sono alla base dell'utilizzo di queste informazioni che tu hai dato. 2. Impara a riconoscere quelli che sono gli atteggiamenti narcisistici. Quando ti senti che le cose non stanno funzionando, quando dentro di te ti aspetti una cosa e ne arriva sempre un'altra, quando comunque il tuo star male è sempre maggiore del tuo star bene con quella persona, quando il tuo prendere qualcosa è sempre dare qualcosa a qualcun altro. Questo ti aiuterà a riconoscere presto la tua vulnerabilità, quando sono utilizzate contro di te le tue vulnerabilità. E questo non è mai un buon segno che la persona che hai di fronte le utilizzi per schiacciarti. E terzo, cerca di mantenere dei limiti con la persona che hai di fronte. Soprattutto quando senti che invade la tua privacy e non ti dà nulla, in cambio, quando le sue fragilità e le sue debolezze non vengono mai portate a galla perché le nasconde, ma vuole sapere le tue, cerca di porre dei limiti a tutto questo e aspettare, perché forse o è troppo precoce il momento nella relazione, oppure ti sta rivelando che non vuole avere con te una relazione di tipo paritario. In conclusione allora, quello che voglio dirti è, abbi sempre presente il tuo valore, cerca sempre il supporto di persone fidate e che sappiano veramente essere dalla tua parte nel senso più alto della parola, cioè di esserti di supporto, non sempre dalla tua opinione, ma che tu senti che hanno a cuore il tuo bene. Perché a volte uscire da una situazione del genere è veramente molto difficile ed avere accanto persone che invece riescono a sostenerci è una ricchezza infinita. Se ti piace il modo in cui io tratto questi argomenti, se ti piace il modo in cui gestisco questo canale, ti chiedo allora di iscriverti, se non l'hai ancora fatto, al canale stesso. E se vuoi darmi anche uno sostegno più concreto, puoi abbonarti al canale, c'è il link qua in descrizione, e mi offrirai un caffè virtuale al mese col quale gratificherai il mio impegno.